Grazie a tutti. Ho conosciuto lui quasi vent'anni fa e ha segnato tutte le tappe più importanti della mia vita e quindi per me ogni volta che penso ad Armani penso a una persona che è mia amica e una persona che mi ha aiutato a capire cos'era il successo e a affrontarlo nel modo più semplice possibile. Grazie a tutti. Potevo essere una qualsiasi, la cosa che ci ha unito poi alla fine è stato un affetto vero.